Allora il regalo è grandissimo perché Francesca Dall'Oglio, grazie, la sorella maggiore di padre Paolo Dall'Oglio, grazie mille, è tra noi e noi vogliamo continuare a parlare di padre Paolo Dall'Oglio, le sue notizie non ci sono più dal 28 luglio del 2013 e noi siamo qui a pregare, a sperare con tenacia e con forza che padre Paolo torni e quindi signora doppiamente grazie per essere qui con noi, grazie a voi di questa opportunità, allora intanto poi parliamo di questo libro meraviglioso che lei ci ha portato però ci sono delle parole di padre Paolo che dobbiamo ascoltare, le vogliamo ascoltare da lei? Sì io ho pensato di leggere, Paolo ha fatto un'ultima intervista a Oriana TV quando è andato a Racca, Paolo è stato rapito il 29 luglio e l'intervista è del 27 luglio, Paolo negli ultimi mesi rilasciava queste interviste, lì va proprio alla sede di questa TV locale e tra le varie cose che lui dice vorrei riprendere questa breve frase che fra l'altro ha ripreso ultimamente anche Riccardo Cristiano in un suo articolo, a poche ore proprio dal suo rapimento Paolo dice, cari miei pensiamo invece a cosa fare per mettere il paese sulla strada della comprensione, della convivenza, della fratellanza, della democrazia matura, voglio un paese plurale, armonioso, dove regni la religiosità, cioè dove le persone si amano perché essere umani, creature di Dio e quindi con diritti e dignità e il meritato rispetto. Grazie signore e credo che in queste parole ci sia il grande messaggio, il grande messaggio di padre Paolo. Insomma le notizie non ci sono però le stiamo aspettando. Sì, aspettiamo, quelle ultime notizie che sono arrivate quando c'è stato l'assalto a Baguzze da parte delle forze kurden che diceva che Paolo, c'erano possibili trattative per la liberazione di Paolo, John Cantel e questa operatrice della crociera neozelandese, io credo che quelle notizie fossero vere. Certo è qualcosa che non ha nulla di confermato, in questi anni non c'è stato mai nulla confermato. E poi quest'ultima notizia che è uscita il 29 luglio, qualche giorno prima, da parte del Dipartimento di Stato americano, di questi 5 milioni di dollari stanziati per chi dà notizie su Paolo, i due vescovi, i rapiti e gli altri due secerdoti. Insomma è uno stagio che pesa, che pesa, che è importante. Saremmo malati anche di speranza noi, però... Brava, è la parola che ha usato anche mia sorella. Però proseguiamo, proseguiamo tutti. Voi come famiglie, chiaramente per voi la notizia è ovviamente ancora più importante, ma anche per i tanti, me la fa passare tifosi di Padre Paolo, proprio con compassione. È vero. Tutto uno stadio in piedi e milioni di stadi nel mondo. Guardate questa intervista, siamo nella nostra TV 2000, è il 25 ottobre del 2012, il nostro collega è Maurizio Di Schino e questo è Padre Paolo dell'Olios. Ascoltate con attenzione. Che cos'è che tu hai creduto e poi parlato in Siria? Io credo di aver parlato anche con la mia vita, non solo con le chiacchiere o con la predica, che è più onorevole che le chiacchiere. La mia è un'avventura della quale io stesso mi meraviglio. Nel senso che una volta che ti metti alla sequela di Gesù, succedono delle cose fantastiche. In fondo io ero molto orientato a questioni sociali all'inizio della mia vocazione, lo sono rimasto. Ma l'Islam mi è stato come proposto durante gli esercizi spirituali. un occupatene. Prendi a cuore questo in nome del mio cuore. Il mio Signore mi dà una missione che riguarda un'urgenza. Questa sarà la prossima priorità. Preparati per questo. Passa dieci anni a prepararti a studiare araba, a studiare l'Islam, a diventare simbolicamente musulmano, ad entrare in profonda comunione con le antiche chiese d'Oriente che da quattordici secoli vivono con i musulmani. Quindi inculturati, radicati, incarnati lì. Ed è questo, questo è un parlare che viene da un credere. C'è questo mistero della persona di Gesù che non chiude in un guscio culturale chiuso, ma che ci lancia in tutte le direzioni dell'umano, delle civiltà, delle grandi religioni. È stato veramente appassionante e lo resta. Stiamo parlando di un gigante. Suo fratello è un gigante. Beh, è un gigante. Sia la statura sia anche la voce potente e questa sua forza. È molto emozionante vederlo qui, rivedere questa intervista qui da voi. E noi ci tenevamo, sa, signora, ci tenevamo tanto perché è l'uomo che stiamo aspettando, l'uomo capace di diventare arabo nel cuore, per capire e comprendere quella comunione tra chiese, comunione tra credo. Questa è la forza di suo fratello. senta, ma questo ragazzone, questo grande sacerdote, quando era ragazzino? Perché lei è la sorella maggiore. Sì. Voi siete otto figli. Otto figli. Quindi lei è un po' il capitano di tutta la squadra. Sì, diciamo di sì. Un delegato. E quando era piccolino? Che fratello era Paolo? Paolo è il quarto tra noi. Sì. E beh, si faceva sentire, che probabilmente aveva bisogno proprio di farsi riconoscere, no? Perché poi in sei anni la mia mamma ha avuto sei figli, quindi sempre una cosa molto... Era impegnata. Era impegnata. E Paolo, sì, aveva intanto questa sua voce tonante, no? Forte, che io ho anche risentito quando sono stata con lui a Marmusa nel 2008. Mi ricordo tra quelle mura di quel convento a Marmusa si sentiva la sua voce. Una voce dove le emozioni, la consapevolezza, il coraggio l'hanno sempre trascinato. Ricordo questa sua capacità di dialogo, dire la curiosità di incontrare le persone, di relazionarsi con loro. Mi perdoni se dal viaggio del 2008 io torno indietro quando Paolo è bambino, padre Paolo è ragazzino. C'è questo episodio che io dico divertente ma fortemente indicativo, per cui voi andate tutti a fare una gita in montagna. E poi si torna indietro, insomma, no? Però si torna indietro tutti insieme, non bisogna perdere nessuno del gruppo e puntualmente vi voltate e padre Paolo non c'è. Proprio per questa capacità di ascolto, lui dove si era fermato? Esattamente. Lui era ragazzino, io credo che aveva avuto sette anni, non molti di più. Lui si è fermato a parlare con il pastore che stava col greggio isolato tra le montagne in Abruzzo. Si è fermato a parlare lì e non ha sentito più niente, era la nostra famiglia solamente c'era. E lui si è fermato lì, quindi poi abbiamo dovuto sollecitarlo. E questo suo dono, io penso che è qualcosa che poi lo accompagna e parte della sua identità e della sua generosità anche. La generosità per lui in Siria significa non abbandonare gli ultimi, avere la forza di denunciare, avere la forza di dire le cose che non funzionano e lo stiamo vedendo. Anche con una capacità predittiva nel senso che larga parte di tutto ciò che poi è diventato violenza, chi viveva all'interno l'aveva capito prima. Esattamente. Violenza nei confronti del mondo. Esattamente. Paolo, quando è stato espulso dalla Siria nel 2012, ha cercato veramente di portare dappertutto questo messaggio di allarme di quello che stava succedendo in Siria e che sarebbe successo. Questo baratro. Il libro che ha lì lei collere luce è proprio una denuncia di questo. È stato all'ONU, ha fatto un appello a Kofi Annan e voleva che migliaia di pacifisti andassero a Damasco in modo non violento a manifestare la deriva che si stava verificando. La Siria, come mi pare proprio che Papa Francesco abbia usato il termine di una guerra mondiale a pezzi che si stava consumando lì. E questo era il grande anche dolore di Paolo, ma nello stesso tempo lo ha portato comunque ad andare avanti. Quando è stata l'ultima volta che lei lo ha sentito, lo ha visto anzi per la precisione? Io l'ho vista un matrimonio di mio nipote, Paolo ha celebrato questo matrimonio, ecco questa foto ci fa vedere proprio Paolo in meditazione, sia perché era un matrimonio anche con una famiglia diciamo mista anche tra non credenti ed ebrei e Paolo fece una predica a questa celebrazione di grosso spessore. Non dubito. E poi mi ricordo che gli ho detto, l'ho salutato, era fine giugno, ho detto allora Paolo probabilmente ci rivedremo a metà agosto e lui ebbe un attimo di perplessità, doveva anche fare delle conferenze e mi disse, ah sì ci vedremo ad agosto. Poi ci siamo sentiti per email e sapevo che lui doveva tornare poi in Italia il 14 d'agosto e nelle sue email Paolo mi diceva, io gli dicevo di stare attento, anche a volte analizzavo un po' gli interventi che lui faceva su Affington Post e lui in modo molto tenero mi diceva mi dispiace che voi dobbiate anche portare sulle spalle questo fardello di questa guerra. La mamma, la loro mamma, la signora Donatella scrive una lettera bellissima che conclude con una richiesta di preghiera per Paolo e per la pace in Siria. Quanti anni ha la vostra mamma? Novanta. Novanta. Quindi bisogna dare retta ad una madre che chiede la liberazione del proprio figlio, chiede di pregare per questo. Ci sono tante, lei ha citato poco fa appunto, elementi che fanno, che danno ragionevolmente l'idea che questo grande ostaggio, non solo per come padre Paolo ma per ciò che padre Paolo rappresenta con gli altri, sia ovviamente nelle mani di chi sa ben trattare poi, perché poi purtroppo a volte è solo una questione di denaro. È stata ritrovata la sua valigia nel 2017, quello è stato un episodio un po' oscuro insomma perché voi non ne siete stati informati, si è perso un po' di tempo. Sì, è un episodio che ha un po' incrinato il rapporto di fiducia con chi dovrebbe aiutarci a sapere qualcosa di Paolo. Questa valigia era arrivata alle autorità italiane nel maggio 2014, noi non abbiamo mai saputo nulla dell'esistenza di questa valigia, se ci avessero detto che era in possesso delle autorità e che serviva a fini indagativi per poter avere notizie su Paolo non ci sarebbe stato nessun problema da parte nostra. Diciamo che è stato saltato questo passaggio. Abbiamo saputo da un articolo che è uscito a luglio 2017 dell'esistenza di questa valigia che Paolo aveva lasciato in questa casa dove era ospitato a Racca e diceva che era stata portata al consolato italiano di Gaziantep, poi in Francia, insomma a un certo punto l'abbiamo recuperata. Senta signora Francesca, la comunità monastica di Marmusa, fondata da padre Paolo, scusi ho fatto un giro perché poi quella è tutta un'altra storia, nonostante le macerie si prosegue. Si prosegue e questa è una cosa veramente un segno importante perché Marmusa è rimasto sempre aperto anche in tutti questi sei anni di guerra, certamente negli anni più duri andava poche persone andavano al monastero ma adesso hanno ricominciato ad andare e la comunità ha cercato di aiutare gli abitanti di Nebek, cercando di aiutare a costruire delle abitazioni, dare lavoro. Adesso è stata aperta una scuola di musica per i bambini e poi a Sulemania nel Kurdistan iracheno dove Paolo c'è questa comunità sua che fra l'altro ha accolto i profughi cacciati dall'Isis, dall'Iraq. Insomma non c'è padre Paolo fisicamente ma tutto il suo lavoro sta proseguendo. Prosegue anche a Cori. Sta continuando. Continua in modo, Paolo è il fondatore di questa comunità ma la comunità è autonoma e continua ad andare avanti. Allora dico solo questo, 9 dicembre ore 11, Palazzo delle Aquile, sarà conferita la cittadinanza onorare di Palermo a padre Paolo dell'Oglio, a questa meravigliosa sorella capoclasse perché è la sorella più grande, noi rivolgiamo un grazie sincero perché venire qui per lei è stato sicuramente magari uno sforzo in più, per noi un grandissimo regalo signora, grandissimo. Grazie di essere stata con noi a Lora Solare. Grazie mille a voi. La recita alla coroncina della Divina Misiricordia, domani ore 14, l'ora solare, lasciate le finestre spalancate e qualora ci sia da ricordarlo, una preghiera ogni giorno per padre Paolo Dall'Oglio. Grazie. Grazie. Grazie.